ecco siamo in santa maria delle grazie si vedono le sette cappelle laterali la in fondo c'è tutta la parte del bravante che vedremo dopo e le sette cappelle laterali 7 a sinistra 7 a destra 7 il numero della spiritualità e si notano comunque tutte le stelle dei visconti con i raggi adeguati